Sì, benvenuti in questo nuovo video, io sono Ale Io sono Leo E oggi vi dobbiamo parlare di una cosa Una cosa importante Allora, GTA V Online non mi va più Però GTA V normale sì Quindi faremo video su altre cose Tipo Horizon, Fallout, Lego Quelle cose di Ory, Fortnite, di tutto Ora Faremo un video dove vi facciamo vedere Perché non mi va GTA V Online E scriveteci qua sotto nei commenti Cioè so già cosa vuol dire Perché mi dice di andare e di comprare PlayStation Plus Tutte quelle cose Ora l'ho fatto cento volte e alla fine ho smesso Però così è basta E raga, noi ci stiamo veramente impegnando al massimo A Horizon A me piace molto Quindi può darsi che giocherò un po' io a Horizon Non farò Sì La maggior parte forse giocherò io Non faremo come la GTA che giocava La maggior parte Cioè soprattutto giocherò io Poi a Fallout Io credevo una volta Insomma Adesso si guarda raga Vabbè Per questo video Non mi svegliamo tutto perché Sì Allora Per questo video è tutto Al prossimo video Ciao